Sì, buonasera, è un incendio devastante e terribile. Le parole della sindaca di Parigi, Anne Dalgò, descrivono quello che sta vivendo in questo momento, la città, le fiamme e il fumo nero che stanno interessando ormai da più di un'ora la cattedrale Notre Dame, la più visitata in Europa. Il fuoco e le fiamme continuano ad interessare sempre con più violenza. Il tetto della cattedrale brucia la guglia e l'intera struttura in legno che regge il tetto. I pompieri sono sul posto ma è molto difficile raggiungere le fiamme vista l'altezza della cattedrale. In arrivo, affermano dalla prefettura i Canadair, ma ancora non riusciamo a vederli. L'incendio si è sviluppato alle 18.50, inizialmente nella zona del solaio della cattedrale dove sono in corso i lavori di ristrutturazione. Un perimetro di sicurezza è stato creato attorno alla cattedrale e un appello ai cittadini a rimanere lontani dalla zona è stato diramato poco fa anche dal comune. Emmanuel Macron ha annullato il suo discorso alla nazione. È il primo incendio che interessa la cattedrale della Notre Dame. Nemmeno durante la rivoluzione, affermano i media francesi, la cattedrale è stata interessata dalle fiamme. È un momento tragico per la Francia, dicono ancora i media francesi, perché Notre Dame fa parte del patrimonio di tutta la Francia. e tutta la Francia.